Dopo la nuova ala del Collegio Valle e il restyling dei cortili di Palazzo San Felice, ora tocca la parte nord della ex clinica Mondino di Pavia. 32 studenti, tra italiani e stranieri, hanno lavorato in gruppo dal 5 al 19 febbraio sull'edificio di Via Palestro, con l'obiettivo di rifunzionalizzare una porzione del fabbricato di proprietà dell'Ateneo, immaginandone una destinazione a museo per prodotti tipici locali. Tema centrale del programma intensivo, l'accessibilità e la fruibilità del patrimonio storico. Un altro problema è, essendo in gruppi molto numerosi, trovare un'idea e una strategia che metta insieme tutte le varie opinioni. Un'esercitazione didattica internazionale dove i cinque progetti proposti sono di fatto cantierabili e hanno fatto emergere approcci diversi da una nazionalità all'altra.